Ed ecco le rigoreane, come la copione, ho costituito, incredibile, facciamo quello che vuoi, guarda, guarda, guarda. la cittina è ancora la scena va bene e quando vanno da arrivo per schiaccare l'avversare inizia un po' per schiacciare l'uomo questa volta non è facile comunque arrivare al fondo la seconda posizione è l'oberso e lì e lì ha messo il giro e lì la l'oberso e lì la l'oberso si porta a casa in merita il secondo posto la scena del muro il coreano